Salve a tutti ragazzi, sono TomSick o SepertiTommy e bentornati qui sul canale. Oggi torniamo nel Wizarding World per parlare di Animali Fantastici, serie spin-off e prequel di Harry Potter. Sega che, dopo il buon inizio con il primo film, è deragliata con il terribile secondo capitolo I Crimini di Grindelwald. E dopo ben quattro anni in cui ci sono stati problemi di produzione, arresti, processi, pandemie e guerre, finalmente è uscito questo travagliato I Segreti di Silente. Una pellicola che per certi versi mi ha ricordato molto Episodio 9 di Star Wars, per fortuna più in positivo. Un film che cerca costantemente di mettere delle toppe ai vari casini, alle scelte opinabili per non dire completamente campate per aria, prese nel film precedente, cercando di mettere in sesto dove possibile questa traballante baracca. Vi starete chiedendo come? Beh, ridimensionando notevolmente alcuni punti cardini, portando ad un senso di calma piatta purtroppo davvero poco coinvolgente. Oltre a questo ci troviamo davanti ad un film tutt'altro che buono, minato da molti tantissimi difetti. Prima su tutti la sua sceneggiatura, ma che, nonostante tutto, risulta essere abbastanza piacevole, per non dire godibile. Insomma, durante la visione mi ha intrattenuto e comunque sono uscito dalla sala con un bel sorriso. Saranno state le aspettative sotto lo zero? Senza dubbio, ma devo riconoscere che questo Il Sigretti di Silente è in grado di compiere quel piccolo passo in avanti rispetto al suo capitolo precedente. Riuscendo così a confezionare un prodotto discreto, in grado di sistemare, in modo non troppo elegante, tutti quei casini fatti nei crimini di Grindelwald. Detto questo, però, purtroppo il film soffre ancora di una grossa crisi di identità, rappresentata da una saga e da un brand che non ha la stessa potenza della sua serie principale, e che ancora non riesce a far coesistere in modo convincente la storyline di Silente e Grindelwald con quella di Newt Scamander e dei suoi animali fantastici. Optando per un miscuglio che, ahimè, risulta abbastanza forzato. Insomma, in tutto ciò, oltre alla regia anonima di Yates, il problema principale di Animali Fantastici sta proprio nella pena della Rowling e degli altri sceneggiatori, nella scrittura di una storia banale, stiracchiata e superficiale. E a proposito di questo, passiamo subito alla trama. In questo terzo capitolo della saga, il piano di Grindelwald di dichiarare guerra ai babbani, si fa sempre più concreto. E le sue schiere di sostenitori si fanno sempre più fitte. Silente in tutto ciò non può fare niente per fermarlo, a causa del patto di sangue che i due da giovani hanno sigillato. Ma ci penseranno Newt, suo fratello Tisius, Jacob e altri caparbi, maghi e non ad aiutarlo. Nel frattempo si stanno per tenere le elezioni del capo della Confederazione Internazionale dei Maghi. E Grindelwald vuole vincere a tutti i costi per vedere realizzato il suo sogno. Infine, Silente deve stare in guardia, perché ad un creden sempre più confuso è stato dato l'ordine da Gellert di annientare il suo ipotetico fratello. Ma Grindelwald avrà detto il vero sul grado di parentela del ragazzo con Albus? Come dicevo prima, nonostante i segreti di Silente risulti essere piacevole e godibile, la sua scrittura continua ad essere tutt'altro che sufficiente. Minata da una struttura narrativa che nei primi due atti è piatta e poco coinvolgente. Una storia in cui c'è davvero poco da raccontare, risultando inutilmente allungata. Infatti, nei segreti di Silente ci sono quei due o tre eventi cardine a cui ruotano attorno diverse storyline confuse e sconclusionate. Degli inutili riempitivi giustificati, sì, dal racconto, ma in modo poco elegante, ecco. Vi confesso che all'intervallo ho pensato, vabbè, per ora si lascia vedere con piacere, ma in questa godibile ora è qualcosa, che cosa ho visto? Tutto quello che hanno fatto, a che cosa servirà in futuro? E nemmeno dieci minuti dopo, nella pellicola, i personaggi chiedono la stessa cosa a Silente. Albus, ma tutto questo casino, a che cosa è servito? Abbiamo rischiato la vita per che cosa? E la faccia compiaciuta e sardonica di Silente non può che dire una singola ed illuminante parola. Stacce. Insomma, un espediente narrativo che altro non è che un gigantesco McGuffin. Presente però solo come diversivo, come distrazione, sia per un certo personaggio della storia, sia per lo spettatore pagante, per arrivare poi all'intrigante ultimo atto e al confronto finale. Metà film in cui ti becchi delle sequenze avventurose e non alcune di queste anche carine, che risultano essere però completamente inutili ai fini della trama. Il che, dio mio, ci potrebbe anche stare, però, signori, non ci troviamo davanti ai predatori dell'arca perduta. Insomma, è robetta. Non a caso, durante la pellicola, qualcuno dice il piano è non avere un piano. E ripensandoci post-visione, questa battuta ha un forte retrogusto metatestuale sul futuro di una saga che ancora non sa che pesci prendere. Insomma, dietro al team degli sceneggiatori si avverte come l'iniziale strada da percorrere si sia un pochino smarrita, portando delle linee narrative sfocate, poco chiare e sempre più filler. Nonostante ciò, posso apprezzare l'intento di rimettere in carreggiata la saga, senza però ancora una precisa direzione da seguire. Insomma, cara Rowling, se invece di dormire sugli allori e stare a scrivere degli imbarazzanti commenti transfobici si concentrassi un pochino di più sul come scrivere una sceneggiatura decente, beh, saremo tutti molto più contenti. Comunque, nonostante la natura abbastanza filler del racconto, i segreti di Silente in alcuni punti riesce a risplendere. Soprattutto in tutte quelle sequenze in cui sono presenti i veri protagonisti della Vicente, ovvero Silente e Grindelwald. Loro due sono senza ombra di dubbio la cosa migliore della pellicola e riescono a reggere sulle loro spalle l'intero film. Finalmente due personaggi davvero carismatici, in grado di costruire una fantastica chimica quando stanno insieme. Questo nonostante non siano perfettamente caratterizzati nella sceneggiatura. Perché in fondo diciamolo, ci troviamo davanti ad uno severi ed un magneto dei poveri. Ma nonostante questo, grazie soprattutto alla bravura degli attori, si capisce che c'è stata una relazione tra i due molto tempo fa. E questo semplicemente osservando i loro sguardi e le loro microespressioni. In più, finalmente il loro rapporto viene reso esplicito e messo nero su bianco. E francamente era pure l'ora. Insomma, senza dubbio quando i due sono su schermo insieme, il film acquista punti e diventa davvero magico. Jude Law si è del tutto trasformato nel silente che conosciamo, portando su schermo una performance davvero convincente. Insomma, ritroviamo quell'albus sardonico, saggio, ma anche molto riservato e malinconico che abbiamo conosciuto in Harry Potter. Eppure la new entry, Mads Mikkelsen, nei panni di Grindelwald l'ho trovata perfetta. L'attore danese è davvero capace, nonostante una scrittura tutt'altro che eccellente, di far trasparire tutte le varie emozioni del villain, rendendolo così sufficientemente approfondito. Un algido elegante e magnetico calcolatore, un maligno affabulatore di menti deboli, che mostra il suo lato più fragile e umano e anche tutta la sua cattiveria in vari punti della pellicola. Un Grindelwald che senza ombra di dubbio ho preferito di gran lunga rispetto a quello di Depp. Dispiace dirlo, ma il suo Gellert non mi ha mai convinto. Fan di Jonin, per favore, non me le volete per questo, ma la sua performance l'ho sempre trovata troppo tamarra e sopra le righe. Mikkelsen invece è estremamente più posato ed umano e proprio per questo l'ho adorato. Un vicido mago e in questo caso anche politico con degli intenti terribili. Accostabile da alcuni orribili personaggi del presente e anche e soprattutto del passato. Insomma, sinceramente avrei voluto vederlo sin dal primo film. E rimanendo sul personaggio di Grindelwald e sul suo obiettivo, un altro elemento che ho apprezzato molto di questi segreti di Silente è il fatto che si tratta di un film molto politico. Non a caso il main event della pellicola sono proprio queste elezioni. E lezioni che, visto gli anni in cui il film ambientato, ovvero nel 1932, a Berlino, e visto il malcontento generale della gente comune post-crisi del 29, il fragile e danneggiato governo reggente e i terribili obiettivi di Grindelwald, si ricollega perfettamente alla Repubblica di Weimar al 1933 e alla vittoria di un folle tizio megalomane con i baffetti strani in Germania. E queste analogie e qualche sguardo di Mikkelsen e alcune battute di vari personaggi mi hanno fatto salire un brivido lungo la schiena. Un altro elemento positivo dei segreti di Silente è che, per fortuna, visto il titolo del film, gli animali fantastici tornano ad avere un ruolo predominante nella pellicola. Soprattutto uno in particolare. E questo non può che farmi davvero molto piacere. A differenza invece di Neil Scamander, che da protagonista della saga è stato un pochino messo in un angolo. Sommerso dal numero assurdo di personaggi secondari e dal carisma di Grindelwald e di Silente. Trasformandolo così solo in un comprimario molto meno interessante e simpatico dei suoi compagni di viaggio, ovvero Lo Snaso e Pickett. Purtroppo quasi tutti gli altri personaggi secondari risultano essere dimenticabili e bidimensionali. L'unico che continua a salvarsi per il rotto della cuffia è Jacob, anche se, senza l'ottimo duo con Queenie presente nel primo film, perde molto. E visto che l'abbiamo nominata, purtroppo anche in questo capitolo il personaggio di Queenie risulta essere terribile, per non dire schizofrenico. Non voglio fare spoiler, ma se nei crimini di Grindelwald impazziva all'improvviso, anche in questa pellicola cambia idea un'altra volta alla medesima velocità. Purtroppo un personaggio che hanno completamente rovinato, facendolo diventare soltanto inutile e fastidioso. Passiamo ora alla gigantesca patata bollente, ovvero la questione Credence. I crimini di Grindelwald ci aveva lasciato con quel terribile cliffhanger su Aurelio Silente. E per fortuna, nei segreti di Silente, questo misterioso grado di parentela viene risolto. Come? In un modo non orribile, non da incazzatura, ma terribilmente banale. Tramite una rivelazione sul finale davvero scialba. Legata anche al fatto che per tutto il film viene ridimensionata notevolmente l'importanza del ragazzo. Così tanto che il suo fato e il suo legnaggio ti è completamente indifferente. Poteva andare peggio? Sì, decisamente. Però è quella calma piatta che lascia davvero... così... molto insoddisfatti. Quindi non so che cos'è peggio. In più, oltre ad altri personaggi dimenticabili, come la nuova simpatica professoressa di incantesimi, il mago francese di cui non mi ricordo il nome, e Aberforth, ci dobbiamo aggiungere anche gli scomparsi. Quei personaggi che per motivi misteriosi sono spariti dalla vicenda principale. La prima è senza dubbio Nagini, che nel film non è presente e non è mai nominata. E l'altra è Tina, un compremario abbastanza centrale negli scorsi film, che qui invece è presente soltanto in una sequenza. Insomma, possiamo dire che oltre Silente e Grindelwald, gli altri personaggi lasciano abbastanza a desiderare. Un altro grande mistero è capire perché Warner continua a chiamare costantemente David Yates dietro alla macchina da presa. Perché se è vero che la sceneggiatura della Rowling risulta essere insufficiente, c'è da dire che anche la regia anonima di Yates ci mette del suo. Quasi sempre incapaci di rendere appassionante, tensivo e soprattutto coeso il racconto. Ad esempio, anche il confronto finale è abbastanza anticlimatico, al quale ci aggiungiamo degli sconti e delle sequenze d'azione confuse che fanno storcere parecchio il naso. Di certo, oltre alla scrittura e alla regia, un po' della colpa è anche da attribuire pure al montaggio, tutt'altro che perfetto. Basti pensare al ritmo del film non proprio fluidissimo, o anche a degli errori di continuità che ci fanno pensare di aver visto una versione molto tagliata. Un po' come era successo anche nei crimini di Grindelwald. Un altro problema è che nei segreti di Silente si avverte troppo poco quel senso di stupore e di magia che invece si respirava molto negli Harry Potter, almeno soprattutto nei primi. In più quel senso di avventura si prova soltanto in pochi momenti durante il film, soprattutto in quelle legate agli animali fantastici. E questa piattezza non si avverte solo nella storia, ma si nota anche dal punto di vista estetico, come abbiamo detto nella regia, ma addirittura anche nelle scenografie e nei costumi. Ad esempio il mondo magico di Berlino è a dir poco anonimo, ancora di più rispetto alla Parigi dello scorso film. È come se in questi dettagli avessero riposto molto meno cura, originalità e inventiva. Per fortuna però, come nell'altro film, quello che si salva sono gli ottimi VFX e il design degli animali fantastici. In particolare la creatura legata al doppio nodo con la storia. In più il film è pieno di fanservice, citazioni e omaggi al mondo di Harry Potter, che farà di sicuro felici la maggior parte dei fan. In conclusione, questo I segreti di Silente rappresenta un piccolo passo in avanti rispetto ai crimini di Grindelwald. Ma la strada per realizzare un buon film e una saga solida e avvincente è ancora lontana. Tutto questo, come ho detto, sia a causa di una scrittura pigra, stiracchiata e superficiale, che di una regia anonima e di un'estetica e di un mood tutt'altro che magico. Di certo Silente e Grindelwald sorreggono il film, la componente politica è molto interessante e alcune sequenze più avventurose degli animali fantastici sono davvero piacevoli da guardare, ma ai miei purtroppo questo non basta. Un film insomma che può piacere come no, ma che tornati a casa lascia purtroppo molto indifferenti. Nonostante ciò spero che non si fermino qui e che continuino questa saga. Magari anche solo con un altro film regalandoci un finale degno. Perché è vero che il film ha una sua conclusione, ma la storyline principale è tutt'altro che finita. Come dicevo prima, diciamo che questo film è servito per cancellare o comunque mettere in ordine i casini fatti nei crimini di Grindelwald. Rappresenta un pochino un punto a capo per la serie di Animali Fantastici. Ora a tutti noi non ci resta che sperare che dopo tre film, grazie a tutte le varie critiche ricevute possono imparare dai loro errori e che possono quindi alla fine realizzare una buona conclusione. Regalandoci così quella magia che tanto ci è mancata in queste ultime due pellicole. E con questo ritiro fuori la mia bacchetta di Sambuco perché le mie opinioni sui segreti di Silente sono giunte al termine. Ma ora sono davvero curioso di sapere il vostro pensiero su questo film, quindi lasciatemi un vostro commento qua sotto. In più vi ricordo che in descrizione trovate tutti i vari link per i social e detto questo io e il mio animale fantastico vi salutiamo e noi ci vediamo ad una prossima recensione. Ciao a tutti!